Quando hai bisogno di uno strumento tecnologico ed intuitivo, versatile e potente, hai bisogno di me. Il mio schermo rende il tuo lavoro più immediato, mantenendo in evidenza i principali parametri di saldatura. L'intelligenza del sistema WaveOS ti guida nel settaggio. Grazie alle curve sinergiche preimpostate, inizi subito a saldare anche in pulsato e su spessori sottili. Con me puoi personalizzare il tuo ambiente di lavoro e creare programmi di saldatura su misura per le tue esigenze. Salva ed esporta i dati delle sessioni di lavoro per esaminare le tue performance, i consumi e generare un costo di produzione preciso. Grazie alla mia versatilità, puoi lavorare su diversi tipi di applicazioni e materiali, in MIG MMA e TIG LIFT. Ti seguo, ovunque serva il mio intervento. Ottieni il massimo controllo regolando i parametri direttamente dall'impugnatura della torcia, senza interrompere la lavorazione. Tecno MIG 240 Wave L'intelligenza efficiente